Una maxi plancia di circa 450 metri quadri ospiterà il 26 e 27 luglio a Sant'Eufemia Maiella in provincia di Pescara, il risico più grande del mondo con la partecipazione di giocatori in arrivo da tutta Italia. Un appuntamento fortemente voluto dal comune con il sindaco Francesco Crivelli, con il supporto della regione Abruzzo nella persona dell'assessore Donato Di Matteo. L'idea, quella di realizzare un planisfero che poi coincide con la plancia di gioco del risico, il gioco più venduto e più giocato al mondo, ha trovato subito l'entusiasmo di editrice giochi che ci ha voluto sostenere, ci ha attivato la comunicazione e per il 26 e 27 luglio sono previsti arrivi da tutta Italia degli appassionati di questo gioco. La manifestazione rientra nell'ambito di un altro appuntamento che ormai è una tradizione a Sant'Eufemia perché si ripete da tre anni e cioè Sant'Eufemia nel mondo dedicato agli emigranti. Quest'anno in particolare la festa pensata per chi ha lasciato il pescarese per cercare fortuna altrove sarà dedicata ai rapporti con il Nord America e si parlerà nel merito anche del volo Pescara-Toronto. È una grandissima iniziativa che è legata culturalmente per il fatto del mondo al mondo dell'emigrazione, in questo senso abbraccia la brutesità nel mondo, tutto ciò che abbiamo portato nei vari paesi del mondo e tutto ciò che abbiamo costruito con la nostra laboriosità e fantasia nel mondo. E nello stesso tempo la creazione di questo grande risico rappresenta un grande strumento di attrazione turistica, territoriale.